Ciao a tutti, giovedì 18 ottobre, oggi Team WOD, nel frattempo una squadra di soccorritori ancora alla ricerca del nostro Gobbo che non si trova, ma che pare sia stato avvistato in una famosa chiesa francese. In attesa di avere nuove notizie del nostro Gobbo, andiamo subito con il WOD di oggi, che vado a leggere sulla cartelletta proprio perché non c'è il Gobbo. Allora, i team saranno composti da tre persone che dovranno fare calories bike, box jump overs, thrusters, chest bar pull-ups, thrusters, box jump overs e calories bike. Per quanto riguarda ripetizioni, cariche e scalature, trovate tutto nella grafica qui di fianco. Ci vediamo domani se ovviamente riuscite a sopravvivere nella speranza di ritrovare il nostro Gobbo. Ciao!